a quattro cifre abbiamo un Alfa 75 è una turbo evoluzione quindi una vettura particolare una delle vetture più diciamo importanti della serie 75 la turbo evoluzione, un motore 2000 mi pare, con quattro cilindri 1.8 questa, con turbo quindi ha una notevole dose di cavalli e quindi è una vettura estremamente performante non ne hanno fatti pochissimi esemplari quanti ne hanno fatti di queste? 500 quindi molto bella una vettura dell'Alfa importante grazie è molto efferato bisogna vedere nessuno le conosce quindi può dire quello che vuole ma siccome queste le conosciamo soprattutto chi ha un po' di impassione ce la fa, ce la fa sì sì ma bastava non franare abbiamo adesso una Fiat 600 addobbata allora